Ora quest'altro è one shot ed arriva a front hill E vai lagga Lagga andiamo Vai ancora Non vado in connessione interrotta ma continua a trasladare indietro Mitico Mitico gioco raga, mitico gioco vai Mi senti Edu? No sicuro che non mi senti Sì, gli ho sparato a quello e non muori Eh? Edu Vabbè E' un altro che può scopo Bello Edu Non ti senti in merda Beh, per se immaginavo con connessione interrotta Di ok Postazione individuata Postazione sotto controllo Profi C.U.A.V.O.S.T.I.E.R.I.V.A.T.O. Alta Postazione persa Notendo So la Conconnessione interrotta Non mi fa... Cioè, vado avanti e mi trasla indietro amateur U. A. V. N. 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 In volo non siamo più al comando minaccia sventata sta andando peggio brutto colpo per la nostra reputazione ruino stile deceduto non discendo più grazie a tutti